da tempo stavo pensando di creare una nuova serie di video che parlassero della storia dell'arte questo perché proprio voi avete approvato il progetto nella community di qui sul canale youtube di arte esplorando ed ecco quindi che è nata l'idea di la storia dell'arte in pillole non aspettatevi video noiosi pieni di date opere nomi da ricordare non è proprio nello stile del blog che esplora l'arte piuttosto si tratterà di brevi video di 3-4 minuti in cui attraverso alcuni capolavori selezionati vi guiderò attraverso la storia dell'arte inoltre a differenza di ciò che si fa in quasi tutti i corsi di storia dell'arte vi parlerò anche delle culture lontane dal nostro mondo occidentale india cina australia andremo alla scoperta di altri universi artistici molto stimolante insomma spero che sia che possa essere l'inizio di una nuova arte esplorazione che vi faccia conoscere ancora meglio il mondo dell'arte in attesa di questi nuovi video non mi resta quindi che ricordarvi di iscrivervi al canale e continuare a seguirmi numerosi ciao 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 ciao